Oggi cari amici torniamo nella serie dei cloni brutti Ebbene si oggi giocheremo a due cloni brutti di Ice Cream Ma che roba E ovviamente non poteva che non esserci lui Mr. Poop a farci compagnia Guardate il video fino alla fine Dopodiché sarete voi a dare i voti a questi giochi che andremo a vedere E con oggi mettiamo pure il livello di letamosità Più il clone brutto e più questo livello aumenterà Andate subito in partita Ma mi raccomando lasciate un commento Tantissimi like E se non siete ancora iscritti Iscritti al canale con la campanella attiva Ma adesso devi partire Cominciamo andiamo a provare subito il primo clone brutto Ok sto clone si apre in questo modo C'è sto caricamento che fa tac 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 E poi c'è questo menu Ma che roba Che poi le colonne di questo gioco E' quella di Boris Quella di Ice Cream 4 Ma cosa Vabbè tocchiamo subito play Vediamo subito sto gioco Ma cos'è sta roba Ma questo è il menu di Volnan per telefono Ma aspettate se io vado qua nello store No vabbè Granny come Granny Ma questo Mi ricordo tanto lo store Che c'è pure su Volnan Ma pure i pezzi della maschera Ma com'è possibile Ma quale maschera bisogna fare Poi cos'è sta roba Le monete non ci interessa Vabbè tocchiamo play Mettiamo easy E si comincia Andiamo in partita Ok Sta caricando C'è sta schermata di caricamento E poi Spero che il gioco parta Speriamo no Perché alcune volte Quando scarico sticlone brutti Devo stare le ore fermo qua Ad aspettare Fino a quando il gioco non si avvia Dai fai Ma mettiti qua ad avviare il gioco Si è bloccato il caricamento Questa musichetta è troppo forte Ma oh Ma ce la fa caricare sto gioco Oh finalmente Eccolo qui Guardate E' proprio lui Il gelataio brutto Ma come sta guidando Con le braccia cos'è Ma come fa a guidare Ma poi quanto è brutto Quel gelataio Non è per dire Ma l'hanno fatto pure male Ma che è sta roba Ok Trova Ice cream truck Il furgone del gelataio Per salvare I tuoi amici Cioè io non so niente Di questa storia Non so proprio niente Uno comincia a giocare Si ritrova qua In sta città Ma chi è Ma cos'è Ma chi è quella persona Sta fanciulla Sta signora che sta camminando Ma scusa No andiamo a vedere Così per curiosità Che cos'è Ma quanto è brutta Ma che è sta roba Ma da dove l'hanno tirata fuori Ma peggio dai film Che fanno tipo Non lo so Nei peggiori cinema del mondo Ecco qua Ma cos'è Vabbè devo dire che però La mappa è bella grande Da percorrere ed esplorare Però basta C'è soltanto questo La mappa è fatta bene di per sé Ma per il resto Non c'è nient'altro cosa Cioè io posso guardare Qui attraverso i muri Guardate qua Ma che cos'è Ma dai Ma quanto è letamoso Sto gioco Ma che letamità Esce fuori da qua Proprio si sente quella puzza Quella puzza di gioco Fatto male Proprio fatto con i piedi Vabbè Proseguiamo Vediamo di qua Se c'è qualcosa C'è qualcuno Ah eccolo qua Lì c'è invece il gelataio Da un lato abbiamo Quella signora L'impazzita Che si svegliava In piena notte Così a rincorrere La gente per strada E lì c'è quel gelataio Ok vediamo Possiamo raggiungere Qual furgone Niente Ah non ho la chiave Del furgone Ma intanto L'ho aperto lo stesso Senza chiave L'ho aperto Com'è possibile Se avessi avuto la chiave Invece cosa potevo fare Non ne ho idea Adesso che devo fare Ah You need to find Dobbiamo trovare Mi sembra appunto La chiave Per liberare il tuo amico Dalla gabbia Ok Cerchiamo sta chiave Vediamo se la troviamo Sì però Sta musichetta Qua di sottofondo Ma è orrenda Cioè io mi sento Sta roba qua Nell'orecchio Di 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 Che sono veramente Insopportabili Ma che roba Allora cerchiamo Sta chiave Va sperando di farcela Senza farci Prendere da nessuno Ok chiave Dove sei Dove ti avranno piazzato Ok qua c'è qualcosa Premiamo a vedere Dentro sta casa Io vedo niente Non vedo nulla Ma cos'è Ma perché mi ritrovo qua In questa città In questo luogo abbandonato Ma io vorrei veramente Capire la storia di sto gioco Vorrei veramente capirla Vabbè Andiamo qui davanti Vediamo se c'è qualcosa Sta mappa è enorme Cioè loro come possono pretendere Che io riesca a trovare una chiave Con una mappa così grande Ah qui posso pure salire sulle scale No ma cosa Ma oh Scusa Michetta Non è per te ma Non mi comparire davanti Scusa Io volevo entrare sta casa Che pure vuota Non c'è niente Cioè insomma Ma cos'è Non c'entra niente Questo con Ice Cream Ma dai Cioè veramente Hanno voluto piazzarci Il nome Ice Cream Soltanto per Cercare di Appunto rendere il gioco Più visibile Per dargli visibilità Altrimenti qua di Ice Cream Non c'è niente Non c'è nulla Vuoto cosmico proprio A parte quel gelataio brutto Che riesce a guidare Con le braccia aperte Per il resto Non c'è nient'altro Io ve lo dico sinceramente Mi sto iniziando ad annoiare Perché non c'è nulla Cioè non ci sono nemici C'è sta città Che io esploro Con sta musichetta qua Ma basta sta musichetta Lasciatemi stare Dove sta sta chiave Ma oh Io non vedo nessuna chiave Non c'è niente qua Poi mi sento pure Leggermente preso in giro Così A caso Mi sento preso in giro Perché non c'è niente Una mappa enorme Questa cosa che mi compare Qui davanti Inutilmente Oh Forse ho trovato qualcosa Ah no È sempre la stessa signora di prima Sempre quella Che non cambia mai Ma io ho bisogno Della chiave del furgone Della gabbia E che roba Ok di qua c'è il coso Qui abbiamo trovato il furgone Perfetto Qui ci siamo tornati Poi per il resto Cioè Ma seriamente Ma cos'è sta roba Ma che cos'è Ma guardate come si è messo Perché Non ci credo Allora La chiave praticamente Stava lì davanti Cioè Allora Cerchiamo un po' di capire Sta logica Io sono andato davanti al furgone Dopodiché mi chiede la chiave La chiave stava davanti al furgone Ma il livello mi fa cominciare Da tutt'altra parte Ma com'è possibile Cioè Mi sono dovuto fare tutto quanto in giro Per tornare nel punto Dove ero prima Vabbè Direi di passare al clone successivo Va Ok Mentre il clone precedente Aveva l'icona con Boris Questo qua invece è l'icona del mini rod Andiamo subito qua In partita Tocchiamo start E proviamo subito Cos'è sta roba Ma quanto è brutto Sto menu dei livelli Ma un menu di livelli Più brutto di questo Non l'ho mai visto Ma cos'è Tutto quanto spalsato Con dei rettangoli Così a caso Poi immagine di sfondo Sicuramente presa da Google Immagini Vabbè Andiamo qua Proviamo subito sto gioco Cos'è sta schermata di caricamento Anche questo immagino A chi ci vorrà del tempo Per poterlo avviare Perché schiclioni brutti Hanno un piccolo problema In realtà ne hanno tantissimi Però hanno un problema di ottimizzazione Nel senso che per caricare Anche una mappa piccola Ci mettono una vita Ok Siamo dentro una cava horror Dobbiamo proteggere noi stessi E raggiungere la destinazione Ma in quale Io non sono dentro Nessuna casa horror È il personaggio Che si è intrufolato Dentro questo cancello E dobbiamo entrare qua dentro Ma cos'è Oh vabbè Senza parole Proprio senza parole Ok dobbiamo entrare di qua Ah almeno qua ci sono dei gelatai C'è un gelataio come Rod Vediamolo Vediamo se ci vede tra l'altro Mi sa che mi ha visto Mi sa che mi ha visto No ma come È già perso Mi ha già perso di vista Ma che roba Vediamo meglio sta casa Vediamo se c'è qualcosa di particolare Niente Nulla di nulla Dobbiamo raggiungere Mamma mia Ma sto coso Ne deve uscito fuori E gli sono passato vicino E non è successo nulla C'è questi gelatai qua Non mi vedono neanche Ma quanti ce ne sono Ma oh Ma ce la fai salire dalle scale Comandi scomodissimi Ve lo dico già I comandi sono scomodi E se vi faccio vedere pure un'altra cosa Livello completato Andiamo avanti Aspettiamo sempre qua Il solito caricamento Perché c'è un problema Con la visuale Io quando muovo la visuale A quanto pare Non è che si muove normalmente Come tutti gli altri giochi Si muove tipo A scatti Ad angoli già fissi No Cioè io voglio spostare la visuale Di poco Non me lo fa fare Me lo sposta di tanto Voi vi faccio vedere tutto Appena carica Ok Il gelataio Ha rubato il tuo salvadanaio Vai a prenderlo Ah ecco Tutto quanto solo per un salvadanaio Allora Ma vi faccio vedere Qui c'è la visuale No Io giro di poco Avete visto Quanto si è cambiata visuale Di tanto Per aver spostato leggermente un dito Aspettate Via 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 Cioè io sono salito di sopra Adesso devo scendere Via 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 Cioè non mi fanno niente Schi gelatai Soltanto se li tocco Poi non mi seguono neanche Neanche mi vanno a rincorrere Ma quanto è letamoso sto gioco Quanto letame c'è all'interno di sta roba Ok abbiamo trovato Su Sta visuale che si sta Stava tutto sballando Si stava sballando peggio Di non so che cosa Vabbè dai Direi di fare soltanto più L'ultimo livello E poi direi che possiamo finire Anche questa tortura Perché sti giochi qua Sono così brutti Che non è giocare ad un gioco Diventa torturarsi Giocando ad un gioco Ok Aspettiamo Sto caricamento Ci giriamo i pollici Perché ci mette tanto a caricare Qualcosa devo pur fare Dai Oh E che roba Esplora la casa Ed entra dentro La stanza dei cassetti Va bene Trova la chiave E cerchiamo qua Cerchiamo sta chiave Per fortuna c'è qualcosetto Che mi dà le indicazioni Su dove andare Perché devo trovare sta chiave Tra l'altro non ho idea Per qua mi parla la casa Del gelataio Ma qui ci sono tanti gelatai Ma quanti ne hanno piazzate Guardate qua Quanti ce ne sono Ma che roba E c'è un altro Ma tanto non mi vedono Non mi vedono Hanno un percorso fisso In sto gioco è facile Bisogna soltanto evitarli E basta Ok Supero Prendi sta chiave Non ti bloccare Sta visuale è fatta malissimo Ma qui c'è pure il condotto Che tanto Vediamo Non funziona Perché non c'è pulsante Per accovacciarsi Ma cos'è Ma dai Ma non ci credo Ok Livello completato Va bene dai Io direi che posso Venire qua il video Fatemi sapere qui sotto i commenti Cosa ne pensate Fatemi sapere qui sotto i commenti Qual è il clone Ancora più brutto Spero che questo video Se vi è piaciuto Mi raccomando Spolliciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti Vi compariranno Ben 4 schede Con 4 serie differenti Cliccatele una Buona visione E ci vediamo direttamente In una di quelle serie Ciao a tutti E buon parino a tutti E buon parino a tutti